La comunicazione che è stata realizzata durante questa campagna elettorale, soprattutto sui social, quanto ha influito sull'esito di queste elezioni europee? Sicuramente i social network sono ormai un hub fondamentale della comunicazione elettorale, quindi c'è stata una grossa attività da parte degli attori politici, soprattutto ormai va detto da parte dei leader. I leader oggi costituiscono gran parte della comunicazione social di una campagna elettorale, tendenzialmente postano e condividono il doppio e hanno il doppio se non il triplo dei followers e dei seguaci del partito che rappresentano, per esempio. Quindi hanno un ruolo centrale nella misura in cui riescono in qualche modo i leader attraverso i social a influire sull'agenda mediatica. A lungo si è sostenuto che la forza dei social network fosse la disintermediazione, cioè consentire alla politica di entrare direttamente in relazione con i cittadini. Oggi abbiamo capito che quel segmento è abbastanza contenuto, è fondamentale per una campagna elettorale perché mobilita, ma è tutto sommato un segmento contenuto di supporter. Mentre invece la grande forza del leader sul social network è quella di poter condizionare anche l'agenda mediatica dei media tradizionali all'interno di una campagna che a questo punto può dirsi davvero digitale. Un commento sull'affluenza al voto, in particolare in Italia dove si sono registrati netti divari tra il nord e il sud, con un sud dove meno di un elettore su due a 20 diritto appunto si è recato alle urne. Sì, certamente si conferma un trend, cioè la tendenza è quella a votare sempre di meno, alle elezioni cosiddette, si dice scientificamente di secondo ordine, cioè quelle a cui i cittadini tendono ad attribuire un significato minore rispetto a quelle delle elezioni politiche. Il voto, o meglio la mancata presenza al voto, si è concentrata soprattutto al sud. Questo probabilmente ha avuto un impatto per esempio per il consenso di un partito come il Movimento 5 Stelle dove al sud era particolarmente radicato.